L'ha preso, l'ha preso! No, no! Tutti ragazzi, benvenuti oggi in questo nuovo video! Ma che c'è? Buoni, sono tornato su YouTube! Oh mio Dio! E siamo qui nella Stardust House! E io direi che per iniziare il video possa lanciare un nuovo asta! Vami la cavalla! Andiamo a rompere le palle a Marte! Ma io direi che qua non hanno rispettato le regole! Io prenderei le precauzioni! Vai! L'ha preso, l'ha preso! Vami, vami l'ha preso! È lui il capo! Hashtag Dani il capo! Max, mi ha morso! Dove ti ha morso, bro? Tipo qua! Che stai facendo con il croccante? Vedete? Giulia, ti ho 100 euro! Sexy Giulia! Ti ho 100 euro se mangi un croccantino! Vai! Dai, sono 100 euro Giulia! Ho 100 euro se prendi un croccantino! No! No, no! Vabbè, tu non mi paghi! Quanto mi paghi! 100 euro! No, non ho quella, niente! Vai laggiù! No, no! No! Oh, cap... La grande sfida è qui! Chi vince 10.000 euro, chi perde verrà legato! Tanto tu perderai! Aia! Aia! Sei pronto ad essere legato? Ma sei pronto a succhiarmi? Aia! Devono arrivare a 5! 4 a 3 per Mura! Aia! Vai! Dani legato! Dani legato! Vai! Sì! Sì! Ura! Questi sono per te! Sì! Andiamo a legare le mani! Dani la cavallo! Non vedo nulla! La sedia! La sedia! Oh! Qua 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 qua! Qua qua qua! Sì! queste sono le chiavi queste sono le chiavi e li buttiamo nel prato si ti spiace Dani è finita così andiamo Dani sta soffrendo sono qui nella Stardust House da ormai una settimana quasi due e ora vi farò vedere la casa quindi ora vi faccio un mini house tour questo è il nostro mega giardino è gigantesco qui abbiamo il primo soggiorno qui abbiamo il secondo soggiorno bella raga scendendo qui abbiamo la piscina che è richiuso non riesco a farvela vedere è una piscina interna che sarà pronta tra poco bagno turco e sauna al piano di sopra invece oddio è un castello abbiamo una cabina armadio altre stanze un bagno gigante la camera più bella della casa salendo ancora troviamo la nostra stanza che è un delirio questo l'ha fatto Dani qui c'è un'altra camera dove non abbiamo la luce non capisco perché non si accende un piccolo balconcino dio raga è enorme questa casa quella era la camera più bella della casa ora andiamo dall'altra parte qui c'è un altro bagno ce ne sono tipo otto in casa di bagni questa è l'ala delle ragazze da questa parte qui c'è la camera di Aurora e Prisida però non ci sono quindi è chiusa questa è la camera di Giulia un altro bagno ve lo giuro raga questa casa è gigantesca scendendo arriviamo dall'altra parte della casa dove qui ci sarà tipo una palestra non ho capito bene e di là c'è la piscina vabbè raga che ve lo dico a fare qua c'è un altro bagno è pieno di bagni Giulia 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 dobbiamo fare uno scherzo a Ergy e dobbiamo far finta di baciarci Dani dobbiamo fare uno scherzo a Ergy io sono lo scherzo della natura dobbiamo fare uno scherzo in cui io fingo di baciare Giulia Ergy si incazzera come una bestia si si frate facciamolo ma perché lei lo odia praticamente gli voglio rovinare la piglia dove ci mettiamo? dove ci mettiamo? qua dentro guarda è romantico tengo io il telefono e gli vado a dire dobbiamo andare da Ergy e dirgli che si sta baciando Giulia Alberico si sta baciando Giulia bro alberico si sta baciando Giulia dove l'ho? laggiù 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 non la vedi? fra 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 dai come è questa cosa? allora mi sto sbroccando presto sta rabbiendo tantissimo sta rabbiendo tantissimo no ma tu io spero che mi sto scherzando dai cioè questo lo so che sto registrando i tiktok è un infame però ma non stanno facendo niente mi devo definirci una cosa vado là mi dicono mi stanno baciando vado lì mi state baciando non mi definirci stiamo parlando è un break è un break stiamo facendo finta che è un break ergi ha visto la clip cosa ne pensi? che siete dei pezzi di merda è ora Giulia? è ora Giulia? ogni giorno io non ci credo più mi trisci con tutti raga un momento un momento per favore per mio fratello laggiù è diventato uno skater sei il più forte se sei mangiato i cracker sai skate up cano e il pisello sei il più forte bene ragazzi se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like un commento una condivisione siamo qui ancora alla Stamastau bella bella Stamastau seguitemi su Instagram alberico Yes Giulia da lei mi trattiamo pastoria al punto Gennaro e Daniele la cavalla bella bella